8 milioni di euro, due in più rispetto alla vecchia programmazione, nel piano locale per la non autosufficienza. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco in un incontro con i giornalisti. I fondi assegnati all'Abruzzo di esclusiva provenienza governativa saranno utilizzati per il 60% per l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza domiciliare socioassistenziale, il servizio di aiuto personale, il telesoccorso, teleassistenza, trasporto, i centri diurni, le assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale, l'assegno di cura, l'assegno di vita indipendente. Su quest'ultimo aspetto l'assessore ha sottolineato che c'è differenza tra legge sulla vita indipendente e piano di azione locale per la non autosufficienza. Purtuttavia in accordo con le associazioni è stato concordato che con questo programma potesse essere finanziata anche una quota per la vita indipendente. Il restante 40% degli 8 milioni di euro, ha aggiunto l'assessore, dovrà invece essere utilizzato per finanziare l'assistenza domiciliare integrata a disabilità gravissima, l'assistenza domiciliare socioassistenziale disabilità gravissima, l'assegno di disabilità gravissima rivolto alle persone affette da SLA e in condizione di dipendenza vitale. L'assessore Sclocco ha quindi spiegato che oltre allo stanziamento aggiuntivo, la novità è rappresentata dal decreto del Governo che ha assegnato il 40% della somma totale ai disabili gravissimi. Alla luce di questa nuova decisione, è concluso l'assessore, è possibile che non tutti i fondi legati al 40% potranno essere spesi. Se ciò dovesse essere, la Regione chiederà al Governo di poterli rispalmare sulle restanti voci. Entro il 10 novembre gli enti d'ambito dovranno far pervenire alla Regione a loro volta i loro piani locali per ottenere le risorse previa verifica positiva degli uffici regionali.